Raffaele, c'è grande attenzione per questa seconda edizione di Wineland? Beh, se lo dice lei, assolutamente sì. No, ci aspettiamo una grande affluenza, soprattutto perché i trascorsi e la prima edizione ci hanno detto bene, quindi speriamo di riconfermare tutto quello che è stata la prima edizione di Wineland e di fare bene anche questa volta. Cosa proponete questa sera? Quali sono i particolari? Beh, Wineland sostanzialmente è sempre lo stesso concetto, quindi vini, cibo e tradizioni, quindi tutto ciò che concerne i prodotti del territorio, della nostra terra, accompagnati poi da un sano intrattenimento, quindi band, DJ set e dei momenti anche culturali con una masterclass dedicata al greco bianco, quindi ai vini bianchi del consorzio Ciro e Melissa e un talk sulla genetica delle viti, quindi con un docente universitario, quindi c'è anche una parte culturale. Tutto quello che stai dicendo ci mette di fronte a quello che può essere fare rete per parlare bene del nostro territorio, per mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze del nostro territorio e soprattutto dare ai crutonesi la possibilità di ritrovarsi in una location come questa della villa comunale per poter godere di una serata particolare, in questo caso di tre serate particolari. Beh, assolutamente ha centrato in pieno quello che è l'obiettivo di Wineland, no? È quello di fare promozione attraverso i prodotti del territorio e allo stesso tempo dare la possibilità ai cittadini di vivere dei momenti spensierati, perché come ci siamo detti tante e tante volte Crotone ha bisogno di socializzare, ha bisogno di fare squadra, ha bisogno di ritrovarsi comunità.